Benvenuti ad Agrigento con Travel Blogger. Ma in tutta la vita ci fu dato godere una così splendida visione di primavera, come quella di stamattina alle var del sol. Lo sguardo spazia sul grande clivo della città antica, tutto giardini e vigneti. Verso l'estremità meridionale di questo altipiano, verdeggiante e fiorito, si vede elevarsi il Tempio della Concordia, mentre a Oriente stanno i pochi ruderi del Tempio di Giunò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.